Buongiorno a tutti e a tutte e benvenuti alla quarta lezione dei tutorial di Blender di Eagle Sera Molto bene, adesso andremo ad introdurre altre importanti nozioni in relazione a Blender Bene, noi sappiamo che questo è il nostro bellissimo Blender 2.93 Adesso io inserisco lo schermo intero, voi sapete che si può fare dal pannello Window Cliccando su Toggle Window Fullscreen Normalmente a questa funzione non è assegnata una shortcut Dovete per forza cliccarvi Tuttavia Blender permette di personalizzare le shortcut E io infatti ho assegnato una scorciatoria da tastiera a questa funzione E vi volevo mostrare come si fa Per raggiungere una scorciatoria da tastiera a un'opzione che Blender ci dà Cliccate sopra di essa con il tasto destro del mouse Assign shortcut E premete sulla tastiera la combinazione di tasti che volete associare a questa funzione Io ho deciso di associare il CTRL ALT F E adesso Blender ha assegnato a questa funzione il CTRL ALT F E infatti prenderà schermo intero CTRL ALT F Voglio uscire sempre CTRL ALT F Perché noi sappiamo che questa funzione ci permette sia di entrare sia di uscire dallo schermo intero Per cambiare la shortcut sempre tasto adesso del mouse change shortcut Ma non è il mio caso E per rimuovere Adesso l'ho rimossa Perché per rimuovere basta premere remove shortcut D'accordo? Molto bene Io volevo solo mostrare come si faceva perché questo si può associare a qualsiasi funzione E vi potrebbe permettere di dare un minimo di personalizzazione al vostro Blender Anche al di là delle funzioni aggiuntive Cioè degli add-on Ok Molto molto bene Nella scorsa lezione di cosa abbiamo parlato? Abbiamo studiato questo pannello laterale Abbiamo visto che ci può permettere di muovere gli oggetti Di ruotarli E di scalarli Ma soprattutto abbiamo visto che lo possiamo fare anche con le scocciole da tastiera G per muovere, R per ruotare, S per scalare Abbiamo visto tutte queste interessantissime scorciatoie che vi verranno molto utili all'interno della lavorazione Poi abbiamo visto che vuol dire annotate, measure e add cube Che in realtà è tutto un insieme di funzioni così anche come per lo scale Avevo già introdotto lo scale cage Ma oggi lo andremo magari un pochino ad approfondire E vi avevo consigliato di vedervelo voi da voi Perché secondo me è una di quelle funzioni dove vederla aiuta a comprenderla molto più che una spiegazione Tuttavia ho deciso di fare allo stesso oggi questa spiegazione E abbiamo studiato tutte le modalità di selezione Le più importanti esistenti in object mode E abbiamo visto come aggiungere gli oggetti O dal menu add O premendo shift a Infine abbiamo visto che abilitando il comando origins Quando muovo Quando faccio un movimento O una rotazione O una scala Agisco solo sull'origine del mio oggetto E consecutivamente solo sulle sue assi locali Abbiamo visto che questa funzione si richiama con control punto Molto bene Oggi non andrò ad introdurre completamente nuovi concetti In particolare inizialmente nella lezione 4 Volevo andare a parlare della edit mode Perché come ho già annunciato la volta scorsa Esistono queste modalità di lavoro nella viewport Noi finora abbiamo sempre lavorato in object mode Però ovviamente quando dovrete per esempio andare a modellare un oggetto complesso Quindi non solo a scalarlo o a ruotarlo Ma proprio a modellare nuovi oggetti Per esempio se volete creare ovviamente proprio una mesh complessa In quel caso dovrete andare in edit mode Dove le cose che abbiamo visto nella scorsa lezione Non funzionano più nello stesso modo Quindi dove dovete imparare a ragionare in un modo molto diverso Rispetto a come avete fatto finora E perciò volevo dedicare all'edit mode la lezione 4 Tuttavia ho deciso di parlare dell'edit mode Solo nella lezione 5 Perché adesso voglio approfondire un pochino Alcuni concetti sempre relativi alla object mode Quindi la modalità in cui abbiamo lavorato fino ad adesso In particolare eccoci di cui vi voglio parlare Nella lezione 1 vi avevo già spiegato il significato di base Dei comandi che trovate qui in alto Che sono se ricordate la modalità della trasformazione Quindi le transform orientation Finora abbiamo visto in modo approfondito global e local Cioè che usano come riferimento gli esseri globali e locali In più vi avevo già accennato gli snap e il proportional editing Tuttavia a quel tempo non vi avevo ancora insegnato Ad effettuare delle traslazioni Delle grutazioni o delle scale Per la qualcosa non abbiamo potuto fare esempi pratici Il che ha reso magari un pochino più complesso Lo spiegarvelo Perché se avessi voluto fare un esempio pratico Avrei dovuto utilizzare delle future di blender Che non vi avevo ancora spiegato Cosa che sinceramente preferisco non fare mai Per non confondervi Voglio sempre cavarmela solo con quello che vi ho spiegato Perché ricordatevi comunque che questo è un corso interiale di blender Quindi alla fine di questo corso Vi conoscerete quasi tutto di blender Però per ora ovviamente devo cavarmela solo con quello che vi ho già spiegato Perché altrimenti il che corso è Tuttavia adesso gli esempi pratici li possiamo fare Perciò volevo approfondire queste funzioni che abbiamo qua Quindi le transform orientations Gli snap to E il proportional editing Iniziamo Attiviamo il comando move E come sappiamo così facendo Automaticamente anche se effetto una rotazione In particolare quando effetto una rotazione Possiamo notare che il computer mi permette Di effettuare delle traslazioni Senza sempre relazione agli assi globali Invece sempre con il comando origins Possiamo andare a vedere quali sono quelli locali Quindi un sistema di assi identico a quello globale Però che ha subito la stessa rotazione del cubo Quelle che vedete appunto Che sono appena diventate visibili Sono le assi locali Mentre quelle che sono relative alle frecce del comando move Sono le assi globali Sappiamo che finché questo comando è global Tutto avverrà Traslazioni, rotazioni, scale Avverranno sempre in relazione al sistema di assi globale E' proprio visto che se io invece lo porto a local Questo invece avverrà in relazione al sistema di assi locale Quindi se io seleziono global GZ me lo muove lungo l'asse Z globale Quindi in effetti una linea perfettamente verticale Indipendentemente dalla rotazione del cubo Invece se vado a local Avverrà lungo l'asse Tutte le traslazioni Ma anche le rotazioni e scalature Avverando lungo l'asse locale del cubo Come avveniva quando le trasformazioni avvenivano a partire dal pannello properties In questo modo Se io premo grab Z L'asse lungo la quale io lo muovo Ha subito esattamente le stesse colorazioni del cubo E questo è il risultato Lo muoverò in questo modo Tengo un effetto come vedete molto diverso Non potenzialmente utile Ma questo l'abbiamo già visto Ci sono in realtà altre due opzioni Che io trovo molto importanti Anche normal è interessante Però per parlare di questo Dobbiamo prima introdurre il concetto di normali Di cui andremo a parlare comunque in futuro Perciò prima voglio parlare di view e cursor Poi normal la introdurremo Quando andremo a parlare effettivamente di normali Ma per farlo dovremo prima introdurre In realtà la edit mode Quindi normal più o meno la lasciamo da parte Voglio parlare di view e cursor View è un sistema d'assi In cui il piano XY È costantemente coincidente Con il piano di vista Ma comunque passante per il cursor 3D Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente Che così facendo Il piano d'assi sarà relativo alla mia vista Quindi con Y Lo muoverò in direzione alto-basso C Su una linea Che è in direzione Una linea verticale Giacente sul mio piano di vista appunto Mentre con Muovendolo sull'asse Y Scusate Muovendolo sull'asse Y Sarà la traslazione Lungo una linea orizzontale Sul mio piano di vista Quindi vedete Avviene esattamente Lungo il mio piano di vista Vedete che il movimento Degli assi È proprio È proprio relativo Al mio esatto piano di vista Invece a questo punto Con il comando Z Io lo andrò ad avvicinare O ad allontanare Dalla mia vista Non vista di camera Attenzione Lo andrò ad avvicinare O allontanare Dal mio punto di vista Quindi dal punto Da cui io sto guardando la scena In questo momento Con GZ Lo andrò ad avvicinare O ad allontanare Molto bene E come vedete Il sistema di assi Cambia in tempo reale Per mantenersi Costantemente Parallelo Alla mia Costantemente Relativa appunto Al mio piano di vista Torniamo un attimo Alle assi globali E annulliamo Tutti i cambiamenti Con contro Z Bene Adesso passiamo All'ultimo sistema Di riferimento assiale Che normalmente Ci sarebbe voluto Un po' di più Per spiegarveli Però vi avevo Gentilotto Il concetto Di asse globale Asse locale Adesso Introdurre View e Cursor In un giochetto Anche perché Cursor è veramente Molto semplice Nascondiamo Momentaneamente Il cubo E lavoriamo Sul nostro Cursore 3D Apriamo Il pannello Laterale Con il tasto N E andiamo Al menu View Qui troviamo Tutti i dettagli Sul cursore 3D Compresa La sua rotazione Ok Vedete Io posso Ruotare Tranquillamente Il mio cursore 3D Come se fosse Un qualsiasi Altro oggetto E Me ne accorgo Bene Proprio grazie Al modo in cui Ho disegnato Il cursore 3D Se adesso Riabilito Il mio cubo E vado Alle assi Di Vado al sistema Assiale Cursor Lo seleziono Ovviamente Vedo Questo strano Sistema di assi Per un momento Possiamo non capire Ma se io Vado In questo pannello E cambio La rotazione Del cursore Vedo che cambia In tempo reale Anche il mio Sistema di assi E se rimetto A 0 Tutti questi Valori Per cambiare Più valori Ricordatevi Cliccate sul primo E trascinate E il sistema Torna Coincidente Le assi Tornano coincidenti A quelle globali Perché Cosa è successo Semplicemente Noi sappiamo Che Se parliamo Di assi globali Parliamo effettivamente Delle assi Y Z Che esistono Nel nostro Spazio Tridimensionale E che sono Quelle che il computer Usa per il calcolo Delle coordinate Basandosi Sempre sul punto Pivot Vi ricordate Questo concetto Se non ve lo ricordate Andate a rivedere La lezione 2 Attenzione Sempre Al fatto Però Che Invece Come abbiamo detto Le assi Locali Di un oggetto Is Sono un concetto Relativo A un sistema Di assi Che però Come origine L'origine Quindi il pivot Dell'oggetto Is E che ha subito La medesima Rotazione Dell'oggetto Is Quindi come sappiamo Se io prendo Un oggetto Is E lo ruoto E lo ruoto Di un certo Numero di gradi Che definiamo Con y Le assi Locali Si baseranno Le assi Globali Relative A quell'oggetto Sono sempre uguali Invece Il sistema Assiale Locale Di quell'oggetto Sarà Sempre relativo A Le assi Locale Di quell'oggetto Si baseranno Su un sistema Di assi Che ha come origine L'origine Dell'oggetto Ma che soprattutto Ha subito La stessa Rotazione Dell'oggetto Quindi appunto L'abbiamo detto Un milione di volte Però ripetiamolo Rotiamo il nostro cubo Poi io in realtà Vi consiglio sempre Di usare le shortcut Rotiamo il nostro cubo Adesso evidenziamo Le assi Globali Attivando il comando Move Se io invece dico Di usare quelle In questo momento Stiamo a cursa Scusate Global Evidenziamo le assi Globali Se io passo A local Il computer Adesso Userà Un sistema Di riferimento Assiale Non più Non più Basato su assi Parallele A quelle Del sistema Di riferimento Globale Invece Saranno assi Basate su Un sistema Di riferimento Uguale Ma che ha Subito Una rotazione Uguale A quella del cubo Appunto Vedete E' un concetto Molto più intuitivo Vedendolo Che esprime Che dicendolo a parole Come quasi tutto In blender Lo noteremo Moltissimo Con il proportional Editing Questo concetto Di vedendolo Si capisce D'accordo? Allora Diciamo che Dopo aver ripassato Questo concetto Che è molto importante Ovviamente Posso dirvi Semplicemente Che attivare Il sistema Di riferimento Cursore Equivale A dire al computer Di usare Per muovere Il mio cubo Il sistema Di riferimento Locale Del cursore Tridimensionale In altre parole Lo dico al computer Di usare Un sistema Di riferimento Che non ha Assi paralleli A quelle globali Che ha subito Sì una rotazione Ma non uguale A quella Dell'oggetto stesso Ma uguale A quella del cursore 3D In altre parole Se io Si attivo Il sistema Local Per il sistema Di riferimento Assiale Usato in Traslazioni Rotazioni E scalature Il computer Inclinerà Il sistema Di riferimento Assiale Utilizzato A un'inclinazione Pari A quella Del cubo Invece Con cursor Lo inclinerà A un numero Di gradi Pari A quello Del cursore 3D Il vantaggio Se io vado A modificare La rotazione Del cursore 3D Il mio cubo Resta comunque Invariato Ma posso Cambiare In modo Molto semplice L'inclinazione Del sistema Di riferimento Assiale Quindi in altre parole General Pannello View Senza Modificare Nessuna proprietà Del cubo Stesso Quindi il cubo Resta così Non ne sto modificando Mica la rotazione Però In ogni caso Riesco A Cambiare Come io voglio L'inclinazione Del sistema Di riferimento Assiale Che spesso Può essere Qualcosa Di molto 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 Utile D'accordo Riportiamo Questi valori All'opzione Di default Che poi Si può fare Anche semplicemente Cliccando Su reset All to default Value Se voglio Resettare Tutti i valori O reset Single To default Value Se voglio Resettare Solo Il singolo Valore In cui ho messo Il cursore In questo caso La rotazione Sull'asse Delle y Passiamo adesso A parlare Di un altro Concetto Fondamentale Del cgi Gli snap Che come possiamo Vedere Si abilitano O disabilitano Con shift Tab E hanno Anche tutte Queste belle Opzioni Relative Però Per spiegarle Direi di iniziare Da un esempio Pratico Che è proprio Quello Che non abbiamo Potuto fare La prima volta Shift A Per aggiungere Un oggetto Aggiungiamo Un piano E scaliamolo Di 5 volte Ovviamente Se voi volete Inserire Un valore Preciso Per una Rotazione Una scalatura O una Rotazione Basta Scriverlo Dopo La scorciatura Da tastiera Relativa Vi faccio Un esempio Volete ruotare Il cubo Di 90 gradi Sull'asse Delle X Delle X R X E pumete Subito 90 Volete Quotarlo Di 45 gradi Sull'asse Delle Z R Z 45 gradi Oppure Volete Alzarlo Di un metro Grab Z 1 E ovviamente Sempre invio In questo caso Scelte proprio Un metro Perché Di default L'altezza Del cubo Come si vede Dal pannello Dimensions È di 2 metri Prima Il cubo Si trovava Metà Sopra il piano E metà sotto Alzandolo Di un solo metro L'ho già portato Dove Dove volevo Cioè Subito Sopra il piano Che è proprio Quello Il mio Semplice Scopo Poi un altro Appunto Quando volete Inserire Direttamente I valori Potrebbe far Comodo Sapere Che nei campi Di testo Di blender È implementata Una calcolatrice Quindi per esempio Se io dico No Questa rotazione È troppo grande Ne voglio La metà Potete scrivere Direttamente 45 fratto 2 E con invio Subito il computer Ne calcola la metà Oppure dite Voglio aggiungere 10 gradi Un più 10 E lo fa automaticamente È un bel trucchetto Esistente in blender Che secondo me È molto intelligente Perché a me Ha sempre fatto Risparmiare Un sacco di tempo Così non devo andare Proprio A prendere la calcolatrice A fare i calcoli relativi Con la calcolatrice O nemmeno a mente Ovvio Torno alla modalità Schermo intero Da qua è riuscito Vi abilito Gli screencast keys Che come ho detto Nelle lezioni precedenti È un add-on Che vi permette Di vedere i tasti Che io premo Sulla tastiera Voi Non serve certo Abilitarlo Averlo Perché non fate lezioni Di blender Beate voi Il lavoraccio Comunque sia Gli snap Alziamo un pochino Il cubo Il cubo Guotiamolo un poco Bene E adesso mettiamo Chi ho voglia Che la parte inferiore Di questo cubo Questo vertice Concida Con Con il piano D'accordo? Io lo potrei fare Scelto manualmente No? Però Potrebbe essere Comunque un pochino Macchinoso Perché dovrebbe essere Molto preciso Nella traslazione Del cubo E farlo manualmente Come abbiamo fatto Fino ad adesso Sicuramente Non è facile Posso certo Ingrandendo Posso Minimizzare Il problema Adesso C'è veramente Un decimo Di millimetro Una frazione Di millimetro Di imprecisione E magari Ci si potrebbe Anche accontentare Ma se vogliamo Precisione assoluta Voi direte Beh Niente di più facile Nell'opzione Di default L'hai alzato Di un metro Quindi Poi l'hai alzato Di un altro Numero Di metri Resetta Quest'opzione A1 E si troverà La posizione Corretta Sbagliato Perché io Ho effettuato Effettivamente Una rotazione D'accordo? Quindi Se questi valori Fossero 0 Avreste anche Ragione voi Però Ruotando il cubo Ho fatto Ho fatto Ho praticamente Fatto in modo Che se io Lo riporto Riporto il pivot Alla posizione originaria Beh io Effettuando la rotazione Ho fatto purtroppo In modo Che ci sia Una parte Dell'oggetto cubo Che stia sotto al piano E quindi Questo sistema Non può funzionare Almeno che io Non vado a misurare Per esempio Quanto è grande Questo triangolo Questo prisma triangolare Che si trova Al di sotto Del piano Ne posso misurare Le dimensioni E poi alzare Il cubo Di quelle dimensioni Ma è comunque Un procedimento Macchinoso Invece posso Per esempio Attivare Gli snap Adesso premo Grab Z Control E Automaticamente Se io gli dico Di farmi uno snap Per esempio Alle facce Beh con il grab Z Premo sempre Il tasto Control Il cubo tenderà A concidere Con Quando io effetto Un movimento Ecco Per esempio Posso fare anche Al Al volume Dovete trovare Sempre l'opzione giusta Per effettuare Lo snap Il cubo tenderà Per esempio Increment Oppure Che sarebbe Una linea Della griglia Relativa Il cubo tenderà Ecco Questa è l'opzione giusta Da usare Questa volta Quando io effettuo Un movimento Il cubo tenderà A fermarsi Quando conciderà Con l'opzione scelta In questo caso Inizialmente Lo snap Non mi funzionava Perché avevo scelto L'opzione vertici Sbagliando Perché Perché i vertici Del piano Stavano qui 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 E qui Dato che il cubo Stava al centro Del piano Non aveva Molto effetto Così come Non aveva effetto Per esempio L'opzione volume Perché effettivamente L'opzione volume Funziona quando C'è un volume Mentre il piano Ha volume 0 Perché Perché se noi Andiamo a effettuare La formula di calcolo Del volume Dimensione A Per dimensione B Per dimensione C Ho la dimensione A Che è di 2 metri Per la dimensione B Che è di 2 metri Però Quando faccio Per la dimensione C Che è di 0 metri Perché il piano Ha spessore Nullo A quel punto Mi si è 0 Infatti il piano Non ha volume Perché ha uno spessore Totalmente nullo Infatti il piano È un oggetto ideale Questo poi Quelli che voi Che Di voi Sono proprio bravi In geometria Sapranno che non è Effettivamente Un vero e proprio piano Perché un piano È un oggetto infinito Ma Blender Ovviamente non ci può Far lavorare Con oggetti infiniti E perciò Considera il piano Un oggetto finito Increment in particolare Significa Qua abbiamo tutta una serie Di opzioni Increment sarebbe Una linea della griglia La griglia è suddivisa In quadretti Attivare l'increment Praticamente vuol dire Dirgli che Quando arriva Al confine di un quadretto Il scavo a un confine Del quadretto Sì Quando arriva al confine Di un quadretto A quel punto Il cubo deve tendere A fermarsi Perché Cosa sono gli snap Gli snap sono funzioni Di Blender Che quando Che quando Io vado a effettuare La traslazione Di un oggetto Tendono A fare in modo Che esso Si fermi Quando una parte Di esso Si trova In prossimità Di che cosa Di una linea Della griglia Di un vertice Di un altro oggetto Dello spigolo Di un altro oggetto Della faccia Di un altro oggetto Del volume Di un altro oggetto Del centro Dello spigolo Di un altro oggetto O a un spigolo Perpendicolare Di un altro oggetto Ovviamente Questo lo potete Cambiare voi Dall'opzione E voi direte Ma funziona solo Per le traslazioni? Se qui è applicato Il comando move No Se applicate anche Il rotate Funziona anche Per le rotazioni E se applicate anche Scala Funziona anche Per le scale Se disabilitate move Ad esempio Adesso io Sposto Il mio cubo E non tenderà Più a fermarsi Quando è vicino Al piano Vedete Se invece Reabilitate il move Lo snap turn A funzionare Magari Zoomiamo un po' di più Per essere Precisi Per essere sicuri Di beccare La linea giusta Della riglia Una cosa del genere Ecco Invece Quando io Vado a effettuarlo Per una Rotazione Facciamo un esempio Appunto Di effettuarlo Per una rotazione No Ecco Anche effettuandola Per una rotazione Quando una parte Del cubo Si troverà Nei pressi Di una linea Della riglia Perché è quella A cui in questo momento Stiamo snappando Il cubo Tenderà A bloccarsi Facciamo un esempio Per esempio Utilizzando Gli spigoli Muoviamo Il piano Di un metro No Non un metro Ah un metro No perché ovviamente L'abbiamo scalato Perché io inizialmente Lo consideravo Un spigolo Di due metro E ho ignorato Il fatto che L'abbiamo scalato Quindi scalandolo Cinque volte Devo aumentare Anche la traslazione Di cinque volte Per ottenere Il medesimo risultato Ecco Se io per esempio Metto Lo snap Agli spigoli R It's Il mio cubo Tenderà A fermarsi Quando si troverà In prossimità Di uno spigolo D'accordo? Bene Questo è solo un esempio Quindi Ricordatevi Questa breve definizione Che possiamo dare Agli snap Uno snap È una funzione Di blender Che quando muovo Quindi traslo Ruoto O scalo Un oggetto A seconda Delle opzioni Che io scelgo Tende a farlo Fermare Quando si trova In prossimità Di un incremento Un vertice Uno spigolo Una faccia Un volume Il centro Di uno spigolo O uno spigolo Perpendicolare Dipende ovviamente Dall'opzione Che voi andate A scegliere Qua Io in particolare Le stavo molto più utili In edit Mode Perché Per esempio Quando devo far combaciare Due vertici A quel punto Mi fa comodo Avere lo snap Perché lì Ovviamente Quando devo Per esempio Abbassare un vertice Fino a farlo Combaciare Con un altro vertice Ecco lì Mi fa comodo Lo snap Per spiegare Quello In papale povere Infatti Faremo degli esempi Di uso degli snap Anche quando Andremo a parlare Della edit mode In particolare Mi viene ancora più semplice Quando ci sono mesh Comunque complesse E lì In ogni caso Come vedremo L'edit mode Mi evidenzia La posizione precisa Dei vertici Adesso andiamo a parlare Di una delle funzioni Più utili Ed interessanti Di blender Il proportional editing Che si può Abbreviare Con P O Proportional editing Appunto Luce e camera Ci danno fastidio Quindi Controli Per invertire La selezione Era selezionato Solo il cubo Quindi in questo modo Selezioniamo Luce e camera Premiamo It per cancellare Ci chiede ok Se si può Di voler cancellare Ma certo Se non si può Di voler cancellare A questo punto Facciamo in modo Che il cubo Non si possa Scusate Non si possa muovere Sull'asse delle zeta Come lo possiamo fare Introducendo Questi lucchetti Impeghiamo Al nostro oggetto Di muoversi Scalare O ruotare Lungo Appunto Una determinata Asse Per esempio Bloccando L'asse delle zeta Quando muovo Quando clicco su grab Anche Senza premere Shift zeta Anche senza premerlo Non lo posso Comunque muovere Sull'asse delle zeta Anche senza premere L'asse In questo modo Non lo posso Muovere sull'asse delle zeta Se metto qua Il lucchetto Se invece Metto il lucchetto Alla votazione It e it Non cliccando su r Lui me lo va a ruotare Su tutti gli assi Però It e it Non sono bloccati Quindi alla fine Si voterà solo Sull'asse delle zeta Invece Bloccando Per esempio La scala Su tutti Gli assi Premendo s Non succede niente Se invece Non la blocco Sull'asse delle y Sto imprimendo s Anche se non dico y Su zeta Sull'asse delle zeta E l'asse Delle x Non accade nulla E perciò Me lo scalerà Solo lungo L'asse delle y Vedete Me lo sta scalando Solo lungo L'asse delle y L'asse delle y L'asse delle y Locale Vi faccio notare Perché ricordatevi Tutti questi parametri Si riferiscono Sempre Alle limitazioni Locali Perciò Se io blocco L'asse delle Se io per esempio Permetto di muoversi Solo all'asse Delle It E lavora da questo pannello Premendo s Y e z Si annullano E quindi funzionerà Solo sull'asse delle y Non la scala Però l'asse delle y Non locale Se invece il blocco Lo faccio avvenire Con le shortcut Che abbiamo visto Nelle lezioni precedenti Quindi s Su tutti gli assi Quindi per esempio Solo sull'asse delle y Premendo Ora qui ho impostato Global Local Però Se premo s Y Me lo scalerà Su tutti gli assi Me lo scalerà Effettivamente Sull'asse delle y Globale A meno che io non vado A locale E in questo modo Anche qui Me lo scalerà Solo sull'asse delle y Locale Quindi in altre parole Queste ultime Lo sarebbero già viste Ricordatevi che Quando io vado Ad esprimere Dei blocchi Quindi dei Ad alcune Gotazioni Traslazioni O gotazioni A partire Dalla Dal pannello Properties Ricordatevi sempre Che lo faccio In relazione Al sistema Assiale Locale Vedete Però comunque Tornando all'esempio Che vi stavo facendo Clicco su Z In questo caso L'asse Z Locale Uguale a quella globale Non lo posso più spostare Sull'asse delle z Ma neanche attivando La funzione move Tant'è che la freccia Parallele In questo caso Coincidente All'asse delle z È scomparsa Molto bene Allora Adesso che abbiamo Bloccato Le traslazioni Del cubo Sull'asse delle z Iniziamo a duplicarlo Quando facciamo La traslazione Che avviene subito Dopo Il Che avviene subito Dopo averlo duplicato Non ci dobbiamo Preoccupare Di premere Shift Z Per impedire La traslazione Sull'asse delle z Per il semplice motivo Che l'abbiamo appena Bloccato Il medesimo Quindi l'asse delle z Per Creare Una Griglia di cubi Facendo Appunto Duplicando I vari oggetti Potete iniziare Creando Già per esempio Questo piccolo Una struttura Diciamo Quasi a A stazione quadrata In questo modo E poi duplicare La medesima Per aumentare Il numero Complessivo Dei cubi In questo modo In altre parole Invece di duplicare Il cubo Per cubo Ci conviene Più Duplicare Un insieme Di cubi Per essere Più efficienti E lavorare In minor tempo Ecco qua In questo modo Vedete E possiamo Creare Appunto Con queste strutture Infatti Sappiamo Che il Proportional Editing Funziona Solo Se abbiamo Più oggetti O più Vertici O più Spigoli In altre parole Solo se abbiamo Più singoli Più singole unità Da traslare Finché non impareremo A lavorare Appunto Con i vertici Possiamo solo Che cosa che faremo Nella prossima lezione Possiamo Solamente Lavorare Duplicando I cubi Ecco E così Criamo Questa Grossa griglia Di cubi Che possiamo Andare ad incrementare Ulteriormente Duplicando Essa Per intero Ecco Così E in questo modo Possiamo Possiamo ottenere Un insieme Di cubi Di grandi dimensioni Ecco Ricordatevi che Questi cubi Sono sempre Oggetti distinti Quindi Le posso Selezionare Uno per uno D'accordo Adesso Duplichiamolo Un altro po' E un altro po' Ecco Abbiamo Molti 2000 cubi Dovrebbero Essere Sufficienti Adesso Il proportional Editing Funziona Quando voglio Effettuare Una Gotazione O una Traslazione E Questo Esempio Volevo Effettuarlo Con Le traslazioni Perché Probabilmente Quando andiamo A studiare Il proportional Editing Il Ecco Vorrei Iniziare Appunto Quest'esempio Pratico Di Utilizzare Il proportional Editing Attraverso Il metodo Attraverso Le traslazioni Poi vedremo Anche come applicarlo Alle rotazioni Alle scale Però volevo Iniziare Su come Applicarlo Alle Traslazioni Intanto Noi Non possiamo Fare Nessuna Traslazione Sull'asse Z Per il Semplice Motivo Che L'asse Z È Bloccato Tuttavia Uno Degli Esempi Più Interessanti Su Come Applicare Il precautional Editing È Proprio Quello Di Partire Da Un Insieme Di Unità Uguali Per la Creazione Di Magari Una Piccola Collinetta Per la Qualcosa Se Volessimo Creare La Soddetta Collina Magari Una Collina Formata Da Questi Cubi Dovremmo Andare A Traslare Sull'asse Z Ma In realtà Possiamo Risolvere Il problema Anche Semplicemente Ruotando Questa Griglia Di Cubi Ruotando Appunto Si Totalmente Questa Griglia Di Cubi E In questo Modo Quando Andremo A Crearvi Sopra Una Collina E La Reazione Di Una Collina E Proprio Un Fulgido Esempio Di Utilizzare Il Proportional Editing Questa Collina Si Rivolgerà In Direzione Dell'asse Delle Z Delle Hits Che Non È Bloccato Quindi Quotiamo Tutto Quanto E Vediamo Subito Che Qualcosa Non Va Per Il semplice Motivo Che Questi Cubi Lavorano Tutti Su Assi Su Centri Di Rotazione Indipendenti Quando Ci Sono Più Oggetti Che Rotate Contemporaneamente Ognuno Con Un Centro Di Rotazione Indipendente Appunto Si Possono Creare Questi Problemi Come Possiamo Compensare Semplicemente Dando A Tutti Lo Stesso Centro Di Rotazione Cioè Collocando A Tutti Il Pivot Nel Medesimo Punto Quindi Ho Cubo Set Origin Origin To 3D Cursor Adesso Tutti I Cubi Hanno Il Pivot Nel Cursore 3D Così Facendo Quando Vado A Ruotarli Sulla Sizzone Di 90 Grad Ottengo Una Triglia Di Cubi Verticale Molto Bene Adesso Magari Contro La Rotation Applichiamo La Rotazione E Per Finire In Bellezza Set Origin Origin To Geometry E Così Di Nuovo L'origine Abbiamo Fatto Tutto Questo Lavoro Quindi Appunto Quando Dovete Ruotare Più Oggetti Ognuno Con Un Centro Di Rotazione Indipendente Date A Tutti Lo Stesso Centro Di Rotazione Cliccando Selezionando Tutti Cliccando Col Descro Set Origin Origin To 3D Cursor Adesso Avranno Tutti Il Pivot Tutti Nel 3D Cursor E Potete Ruotare Stando Sicuri Che Non Ci Sanno Problemi Poi Selezionate Di Nuovo Set E Cliccate Semplicemente Su Set Origin To Geometry E In Questo Modo Aprete Di Nuovo L'origine Nel Punto Definito Abbiamo Fatto Tutto Questo Per Creare Una Riglia Di Cubi Verticale In Modo Che Quando Andremo A Creare Appunto Un Rilievo All'interno Di Questa Griglia Esso Non Si Dirigerà In Direzione Dell'asse Z Ove No Ovviamente Non Potremmo Fare Un Bel Nulla Perché E Bloccata Allora Selezioniamo Uno Qualsiasi Dei Cubi Assicuriamoci Di Avere Attivato Il Proportional Editing Lo Potete Fare Premendo La Shortcut O E Adesso Grab It Se Con La Rutilina Del Mouse Potete Ingrandire O Rimpicciolire Questo Cursore Che Praticamente Sarebbe Un Cerchio Di Colore Nell'area Di Influenza Del Proportional Editing Che Si Può Abriviare Proportional Editing Con La Sigla Pi O Quindi P Puntato O Puntato Allora Cos'è Il Proportional Editing Finalmente Andiamo A Capirlo Il Proportional Editing È Anch'esso Una Funzione Di Blender Che Si Applica A Un Singolo Oggetto Però L'azione Che Noi L'azione Di Traslazione Rotazione Scalatura Che Noi Facciamo Avvenire Su Quel Singolo Oggetto Avverrà Automaticamente Anche Sugli Altri Oggetti Anche Se Avrà Una Forza Inversamente Proporzionale Alla Distanza Quindi Più Aumenterà La Distanza Dall'oggetto Centrale Più Diminuirà La Forza Facciamo Un esempio Pratico Ecco Trasciniamo L'oggetto Selezionato Lungo Particolare Allora Che Che Cosa è Successo Semplicemente Io ho applicato Una traslazione A Questo Cubo Ok Quello che Adesso è Selezionato E Questa Traslazione È Sata Applicata Anche A Tutti Gli oggetti Che Entravano Nel Raggi D'azione Che Noi Abbiamo Definito Con Il Culsore Che Avevamo Tuttavia Non con La stessa Intensità Più Gli oggetti Erano Lontani Meno Sono Stati Traslati E In Questo Modo Si è Creato Un Effetto Collina Perché Gli oggetti Più Lontani Sono Rimasti Diciamo Più Bassi Ok E Perciò Si Forma Una Profilo Curvo E Che Ha Una Forma Particolare Io Posso Cambiare La Forma Che Il Profilo Avrà Con Queste Varie Modalità Di Interpolazione Perché Queste Modalità Si Chiamano Modalità Di Interpolazione Selezionando L'interpolazione Sferica Ad Ha Una Forma Più Sferica Ecco Sembra Proprio Una Partire Di Sfera E Poi Ovviamente Possiamo Scegliere Tantissime Alte Interpolazioni Vi Consiglio Sempre Di Fare Degli Esperimenti Per Vedere Bene Che Forma Hanno E Molto Utile Semplicemente L'icona Prendete L'icona E Potete Controllare Con Attenzione La Forma Che Avrà Il Vostro Risultato Finale Gabits Ecco Per esempio C'è Lo Sharp Che Crea Un po' Questo Effetto A Goccia Ricordate Sempre Di Gab E Poi It's Perché Altrimenti E' Fittuata Anche Una Traslazione Sulla Sede Le Y Vedete Avete Questo Bellissimo Effetto Poi C'è Linear Molto Interessante Perché Con Linear La Distante Perché Con La Modellità Di Interpolazione Linear La Modellità In Cui Cala L'Influenza Che L'Azione Ha Sugli Oggetti All'interno Del Ragio Di Azione Beh Il Modo In Cui Questa Cala Man Mano Che Si Allontana Dall'oggetto Centrale E' Costante Quindi Con Linear Otterrò Praticamente Non Tanto Una Curva Ma Una Vera Curva Punta Una Specie Di Cono Sagomato All'interno Dei Cubi Poi Interessante Constant Dove Tutti Gli oggetti All'interno Del Ragio D'Azione Avranno Una Traslazione Identica Vedete Quindi Gli oggetti Più Lontani Vengono Traslazati Esattamente Quanto Quello Centrale Provocando Appunto Questo Effetto Che Abbiamo Graviz Provocando Appunto Questo Effetto Di Estrazione Infine Con Random L'Influenza Che L'Azione Avrà Sugli Oggetti All'interno Del Quindi L'Influenza Non calerà Man mano Che ci si allontana Dal centro Ma Andrà Su e giù Praticamente Andrà Andrà Sbalzi In altre parole L'Influenza Che L'Azione Avrà Su Ogni Singolo Cubo Sarà Completamente Randomizzata Bene In questo Caso E così Facendo Posso Appunto Creare Queste Colline E se Voi Diceste Ma Un momento Io Questa Collina La Volevo Creare In modo Che Si Rivolgesse Verso L'alto Quindi Sull'asse Delle Z Però Così Ce l'ho Rivolta Verso L'asse Delle Hits Non è Un problema Origin Tutri Dicursor E abbiamo Di nuovo Tutti Gli oggetti Con il Medessimo Centro Di Rotazione E così Possiamo Nuovamente Ruotarli Stando Sicuri Che Non Vi Siano Problemi Di Meno 90 Grad In questo modo Storniamo Alla Impostazione Iniziale Abbiamo Potuto Creare E ricordatevi Quindi Abbiamo Potuto Creare Questa Collina Diretta Lungo L'asse Z Mantenendo Comunque Il Blocco A ogni Singolo Movimento Che Avvenga Lungo L'asse Delle Z In Altre Parole Cosa Abbiamo Imparato Oggi Abbiamo Imparato In Questa Parte Della Nostra Lezione Abbiamo Imparato Che Il Considerato Un Oggetto Centrale Un Raggio D'Azione Vado A Applicare La Trasformazione Che Io Vado Ad Eseguire Sull'oggetto Centrale A Tutti Gli Oggetti De Raggi D'Azione Però Con Un'influenza Che Cala Man Man Che Ci Si Allontana Dall'oggetto Centrale Quindi Con Un'influenza Che Cala Man Man Che Si Allontana Dall'oggetto Centrale Formando Una Curba Che L'Ultime Due Dove La Constant Fa Muovere Tutti Gli Oggetti Fa In Modo Che L'Azione Agisca Su Tutti Gli Oggetti Con La Stessa Potenza Mentre Il Random Fa In Modo Che La Potenza Con Cui L'Azione Agisce Sul Singolo Oggetto Sia Random Che Quindi Casuale Bene Quindi Abbiamo Già Capito Cosa Può Fare Semplicemente Il Ok Così Abbiamo Capito Semplicemente Cosa Può Fare Il Ok Così Abbiamo Capito Semplicemente Cosa Può Fare Il Proportional Editing Il PO D'accordo Magari Vi faccio Un altro Faccio Qualche Altro Piccolo Esempio Per Mostrarvelo Meglio Con CTRL Z Riportiamo I cubi Alla Posizione Verticale E Risettiamo Di nuovo L'origine Alla Geometria Faccio Magari Qualche Altro Piccolo Esempio Per Farvi Capire Faccio Qualc'altro Esempio Semplicemente Effettuandolo Così mi spiego In modo Attento Calcolate Che Questo Comportamento Come vedremo Nella lezione Successiva Si può Applicare Anche Ai vertici Di Una Mesh Quindi Non Non Ho Necessariamente Bisogno Di Più Oggetti Perché Quando Impareremo A Lavorare Con I Vertici Praticamente Io Potrò Dire Al Computer Di Fare Questo Cioè Guarda Effetto Questa Traslazione Non Ai Singoli Oggetti Ma Ai Singoli Vertici E Così Magari All'interno Per Esempio Di Una Mesh Se L'oggetto Ma Questa È Una Cosa Che Vedremo Nella Lezione Successiva Semplicemente Calcolate Che Tutta Questa Azione Può Essere Eseguita Anche Non Solo Tra Oggetti Differenti Ma Anche Tra I Vertici Di Una Mesh Possiamo Effettuare Un'azione Di Editing Proporzionale D'accordo Bene Quindi Questa È Modo Molto Armonico Quindi Creando Appunto Delle Forme Di Grandissima Armonia Perché Ora Noi Stiamo Editando I Singoli Oggetti E Stiamo Semplicemente Cambiando Usando Una Funzione Interessante Di Blender La Posizione Di Ogni Singolo Oggetto Appunto Quindi Abbiamo Questa Quindi Adesso Con Blender Potrete Creare Anche Oggetti Che Hanno Forme Armoniose Ecco E Appunto Per La Creazione Condulati Vedremo Che Un'altra Funzione Molto Interessante Che Apprenderemo In futuro E Quella Dello Sculpting Che Approfondiremo In seguito All'editing Perché Che Approfondiremo In seguito Alle Tecniche Di Modellazione Queste Non Sono Tecniche Di Modellazione Le Tecniche Di Modellazione Le Introdurremo A Partire Dalla Le 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 Successive Bene E Così Abbiamo Già Scoperto Qualcosa Sul Proportional Editing In Object Mode Perché Come vedremo Sempre Nella Lezione Successiva In Edit Mode Vi Sono Tante Alte Possibilità Se Volevate Salvare Il Vostro Lavoro Io Non L'ho Fatta Perché Non Lo Vedevo Necessario File Shevas E Vi Si Apre Il Pannello Di File Di Blender Ove Potete Navigare All'interno Di File Del Vostro Computer Selezionare La Cartella Ove Volete Salvare Il Vostro File E Scrivere Qual Il Nome Del File Blend Tra Parentesi Quando Voi Aprite Questa Finestra Di Dialogo Shevas Se Vedete Che La Barra Inferiore Dove Inserite Il Nome Si Colora Di Rosso Vuol Dire Che In Quella Rattella È Già Presente Un File Con Quel Nome E Che Verrà Sovrascritto Per Lasciare Il Posto Quello Che State Salvando Quindi L'altro File Con Quel Nome Verrà Cancellato E Al Su Posto Apparirà Quello Che Inserite Adesso Perciò State Attenti Quando Vedete Che Questa Barra In Basso È Colorata Di Rosso Perché Vuol Dire Attenzione C'è Un Altro File Con Quel Nome Se Salvi Questo Sempre Con Quel Nome Io Non Posso Mantenere Due File Con Lo Stesso Nome E Perciò Quello Vecchio Lo Cancello Però Questo È Adesso Andiamo A Vedere Cosa Può Fare Se Andiamo Ad Applicare Delle Rotazioni O Delle Scale Attiviamo Il Proportional Editing Con La Shortcut O Questa È Un'altra Scena Non Quella Che Abbiamo Creato Poco Fa Non Serve Che Vi Replicate Necessariamente Tutto Quello Che Sto Facendo Dovete Solo Comprendere Le Basi Del Lavoro Tanto La Maggior Parte Delle Tanto La Maggior Parte Degli Usi Del Proportional Editing Le Farete In Ambito Di Traslazioni Però Ho anche Grandi Potenzialità In Ambito Di Rotazione Scala Iniziamo Andando A Vedere Cosa Può Fare Con Le Rotazioni Allora Un momento Che Adesso Devo Applicare Devo Mettere Devo Riposizionare L'origine La Geometria Di Questi Cubi È Molto Importante Ovviamente Che L'origine Scrava La Geometria E Iniziamo Ad Effettuare La Rotazione Ci Troviamo Con La Modalità Di Interpolazione Smooth E Come Vedete Ottengo Esattamente Questo Effetto Tipo Ad Onda Perché Mai Lo Ottengo In In Altra Il Motivo È Molto Semplice Tutti Gli oggetti Che Si Trovavano Beh Sempre All'interno Del raggio Di Azione Tutti Gli oggetti Che Si Trovavano Più A Destra Rispetto Al Mio Rispetto All'oggetto Centrale Hanno Subito Una Curvatura Positiva Mentre Gli Altri Oggetti Hanno Sempre Subito Una Curvatura Positiva Però Verso Il Tutti Questa Traiettoria Di Rotazione Ok E Si È Formata Questa Sì Hanno Seguito Tutti La Stessa Traiettoria Di Rotazione In Altre Parole Ut E Invece Quelli Più Lontani Dall'oggetto Centrale Si Sono Gotate Di Meno E Perciò Questo È Quello Che Io Posso Ottenere Con Interpolazione Per E Scusate Devo Ricordarmi Di Vincolarmi Sempre All'asse Z Se Ho La Modalità Di Interpolazione Sphere Ottengo Un risultato Tecnicamente Simile Vedete Ottengo Un risultato Simile Però La Curvatura Che Ottengo Avrà Una Forma Che Tenderà Di Più Ad Essere Una Sfera E Non Invece Una Forma Appunto A Chiocciola Perché Ho Interpolazione Sfera Oppure Con La Modalità Di Interpolazione Good Ovviamente Sempre Vincolandomi All'asse Delle Hits Ottengo Sempre Un'onda Però Così Facendo Con Una Forma Propria Della Modalità Di Interpolazione Che Ho Settato Lo Stesso Per La Modalità Di Interpolazione Inverse Square R Hits Inverse Square E Sharp E Linear Ottengo Sempre Un po' Questo Effetto Chiocciola Ad Onda Quindi Dove Una Serie Di Oggetti Sargoni Una Serie Di Oggetti Scendono Quindi Appunto Questi Effetti Che Avete Qua Presente Che Creano Quindi Se Questo È Il Piano Di Cubi Un Effetto Appunto A Chiocciola Come Quello Che Vi Sto Abbozzando Nel Disegno Otterrò Sempre Un Effetto Come Questo Utilizzando La Modalità Di Interpolazione Che Banno Da Smooth A Linear La Forma Specifica Che Avrà Questo Profilo Della Mia Onda O Della Mia Chiocciola Comunque Di Queste Forme Che Vado A Definire Dipenderà Della Mia Modalità Di Interpolazione E Questo E Questo L'Effetto Del Proportional Editing In Ambito Di Ruotazione Ecco Aumentiamo Un po' Il raggio Della Gomma Per Essere E E Procediamo Ora Eliminiamo Un po' Di Azioni Per Pulire Magari Un pochino Il Nostro Piano E Vediamo Cosa Succede Con L'opzione Constant E Rates Semplicemente Mi Ha Vuotato Tutti I Cubi All'interno Del Raggio D'Azione Però Tutti Con La Stessa Forza Quindi Equivale Ad Avere Selezionato Una Serie Di Oggetti All'interno Del Raggio D'Azione E Di Averli Guotati Tutti Esattamente Nello Stesso Modo In Modo Molto Semplice Ecco Io In Rata Queste Opzioni Le Trovo Utili Solo Negli Stretti Specifici Contesti Certo Ovviamente Posso Ottenere Risultati Molto Diversi Se Io Applico Una Rotazione Sull'asse Z Posso Creare Tipo Questi Vortici No Magari Non Con Una Tale Rotazione Però Con Una Rotazione Magari Un Pochino Più Quieta Sull'asse Z Ecco Già Ottengo Resultato Molto Molto Diverso Che Sempre Dipende Dalla Modalità Di Interpolazione Fate Dei Test Faccio Un Esempio Di Ciascuna Opzione Vedete In altre Parole Usando Se Invece Se Invece Se Seguo Sempre Con Il Proportional Editing All'interno Di Non Passante Per Il Piano Di Oggetti Che Ho Creato In Quest' Sulla Sazza Vado A Creare Determinati Interessantissimi Effetti A Vortice Ecco Vedete Ricordate Sempre Di Settare Bene L'asse Eh Lineal Vedete Posso Tenere Questi Interessanti Effetti E Se Invece Io Sempre Con Le Modalità Di Interpolazione Che Diverse Da Random E Constant Che Come Sappiamo Sono Un po' Particolari Posso Anche Sommare Sia L'effetto Ad Onda Sia L'effetto A Vortice Quindi Per esempio Se Premo R Shift Y Lo Ruoto Sia Sull'asse Z Cando Il Vortice Che Sull'asse X Creando L'onda E In Questo Caso Il Risultato Sarà Più Meno Questo Vedete Che Da un Risultato Più Caotico Rispetto Alla Semplice Rotazione Sull'asse Hits Invece Invece In Questo Interessante Se Vado A Effettuare Una Rotazione Su Tutti Gli Assi Creò Proprio Questo Magari Effetto Ad Arrotondamento Che Infatti Io Consiglio Sempre Di agire O Su Un Assi O Su Tre Assi Perché Se Io Agisco Su Due Assi Ottengo Un Risultato In realtà Abbastanza Simile A Quello Che Ottengo Agendo Su Un Asse Infatti In Questo Caso Se Agisco Sull'asse Delle Hits Più L'asse Z Non Ottengo Risultati Molto Diversi Invece Se Agisco Su Un Solo Asse Creò L'effetto A Se Agisco Solo Sull'asse Delle Y Ad esempio Infatti In Questo Cazzo Agisco Sull'asse Delle Y O L'asse Delle Hits Mi Crea Un Effetto Simile In realtà Però Se Agisco Sull'asse Delle Y Creo Questo Effetto Ok Se Agisco Anche Sull'asse Delle Z Creo Magari Un Effetto Vuotato E Un Pochino Più Caotico Ma Se Agisco Su Tutti Gli Assi Creò Un Effetto Caotico Vi Invito A Fare Delle Prove Con Vari Assi Ok Però Era Per Darvi Una Piccola Dimostrazione Invece Effettuando Una Rotazione Sull'asse Delle Z Con L'opzione Con Stante Ovviamente Ruoto Indipendente Tranquillamente Tutti Gli Oggetti Nel Mio Raggio Di Azione Mentre Invece Trovo Molto Utile L'opzione Random L'opzione Random Io La Usso Soprattutto Vuotando Lungo Tutti Gli Assi Perché Mi Permette Di Render Molto Caotica La Mia Parte Di Piano In Particolare Accendo Con L'opzione Random Su Tutti Gli Assi Io Riesco A Rendere Veramente Nel Senso Nella Parola Caotico Incasinata La Mia Griglia All'interno Di Raggi Di Azione Ho Tutto Questo Gran Caos Che Non Rispecchia In Precisa Maledettamente Ordinata Posso Effettuare Una Piccola Rotazione Per E In Questo Modo E Posso Renderla Un Pochino Meno Ordinata Ecco Vedete Per E In Questo Caso Gli Elementi Combaciavano Tutti Usando Il Valore Random Ed Quindi Io Uso Soprattutto Il Valore Randomizzato Insieme A Tutti Gli Assi Per Creare Questi Effetti Appunto Di Per Rendere Un pochino Più Torbida Più Casuale In Questo Modo Anche Leggermente Più Realistica Una Superficie Come In Questo Caso Che Non È Una Superficie In Questo Caso Una Griglia Di Cubi Una Griglia Di Cubi Sì Però Spero Di Essermi Spiegato Posso Ovviamente Gire Anche Solo Su Un Asse Con Il Valore Random E In Questo Caso Ottengo Sempre Risultati Tecnicamente Simili A Quelli Che Ottenevo Con Le Alte Modalità Di Interpolazione Però Che Non Rispecchiano Più Una Geometria Così Precisa Ma Sono Più Casuali Più Cresi Come Ok E Quindi Questo È Il Risultato Del Valore Random Che Posso Anche Applicare Agli Effetti A Vortice Ok Per Esempio Facciamo Control Z Per Dare Una Piccola Pulitina Alla Superficie Ok Può Bastare Se Ho Random E Faccio Una Rotazione Sull'asse Delle Z Che Prima Mi Portava Un Effetto Un Vortice Bello Preciso Adesso Non Ho Creato Un Effetto Vortice Ma Ho Creato Una Specie Di Sì Proprio Un Effetto Di Incasinamento Sulla Mia Griglia Di Cobb In altre Parole Io Uso Molto Gli Effetti Di Rotazione Col Proportional Editing Su Una Griglia Per O Creare Appunto Quegli Effetti A Chiocciola Che Abbiamo Visto O Creare Magari Quegli Effetti A Vortice Ma Che Per Sempl Mi Vengono Utili Quando Nel caso Dovessi Creare Per Sempl Il Modello 3D Di Una Galassia Avere Vortice Spirale No Quindi Voglio Creare Un Effetto Galassia Spirale Utilizzando Il Proportional Editing Posso Riuscire A Creare Un Vortice Che Ha Come Centro Il Centro Della Mia Galassia Stessa In Questo Caso Non Dovrei Agire Su Una Liglia Di Oggetti Quanto Su Sui Vertici Che Formano La Mesh Della Mia Galassia Ma Come Possiamo Applicare Il Proportional Editing Ai Vertici Lo Vedremo Meglio Nella Prossima Lezione Quindi Uso Molto Il Proportional Editing Applicato Alle Rotazioni Per Per Creare Particolari Effetti A Vortice O Soprattutto In Combinazione Con Il Valore Random Per Incasinare Un Pochino La Mia Eccosi La Mia Superficie Ok Per Finire Di Parlare Del Proportional Editing Dobbiamo Vedere Come Applicarlo Alle Scale Ho Ricreato Adesso La Mia Bella Griglia Di Cubi Bella Pulita Bella Senza Senza Cotazioni Trasferite Di Alcun Tipo E Adesso Andiamo A Vedere Se Cosa Succede Con Il Proportional Editing Attivato Cosa Succede Se Applico La Scala Iniziamo A Poco Poco Ad Aumentare La Scala E Vediamo Che Già Inizia A Crearsi Quasi Un Effetto A Bolla Che Parte Dal Cubo Centrale E Si Diffonda Agli Altri Vedamente Man Man Che Si Lontano Dal Cubo Centrale I Cubi Sono Sempre Più Grandi No E Quindi Mi Crea Diciamo Questo Effetto Che Sembra Quasi Un Gonfiore All'interno Della Mia Del Mio Piano E Che Effettivamente Questo È Come Se Stasse Crando Una Bolla All'interno Del Mio Piano Stesso Ma Quando La Scala Diventa Eccessiva Più Che Una Bolla Ottengo Un Vero Disco Una Verra Struttura Molto Gigantesca Di Cubi Che Mi Vanno Ad Rimpicciolire Il Mio Cubo Infatti Se Vado A Rimpicciolire Il Mio Cubo È Come Se Io Creassi Una Specie Di Effetto A Risucchio Che E Che Potete Cosa Succede Se Applico La Scala Per Esempio A Un Solo Asse Per Sulla Sulla Sle Le Hits In Questo Caso Creero Un Effetto Che Non Crea Un Verro Proprio Gunfiore Al Di Supra Del Mio Piano Crea Più Questo Effetto Quasi Al Sia Sull'asse Delle Y Vado A Creare Noiose Compenetrazioni Che Sono Sempre Meglio Evitare Invece Scalando Sono Un Asse Perpendicolare Rispetto Alla Mia Griglia Quindi Per Sulla 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 Z Scalando Io Vado A Creare Una Cullinetta Simile A Quella Che Ottengo Con Le Traslazioni Che Però Si Trova Anche Al Sotto Della Mia Griglia Che Non Ha Buchi Infatti Andiamo Adesso A Fare Un Parallelo Tra Le Colline Che Posso Ottenere Usando Le Scale E Le Traslazioni Quindi A Parità Quindi S Z 5 Un Poco Facciamo Tipo 50 E Invece Un Altro Cubo Grab Z 50 Vedete Guardate Che Differenza Qua Ho Creato Questa Funzione Che Assomiglia Quasi Che Sembra Costituita Da Una Serie Di Pilastri Tutti Vicini Il Che È Il Caso Dove Da Fatto Che Effettivamente Sono Pilastri Tutti Vicini E Si Ripete Anche Al Di Sotto Invece Nella Collina Che Tengo Con Le Traslazioni Mi Si Creano Questi Buchi Ovviamente Il Profilo Di Ogni Trasformazione Dipendente Dalla Modalità Di Interpolazione Per Esempio Effettuiamo Una Scala Usando Un Esempio Per Ogni Assi L'interpolazione Costante Se Effettua Una Scala Su Tutti Gli Assi Ovviamente Equivale A Selezionare Un Gruppo Di Cubi E Rendere Tutti Più Grandi O Più Piccoli Invece Se L'effetto Sono Una Sola Asse Potrò In realtà Lo Stesso Risultato Si Appunto Quindi Questi Sono Quindi Questi Sono I Risultati Che Posso Ottenere Utilizzando La Scala Constant In Questo Momento Questi Oggetti Si Sono Scalati Molto Di Più Perché Il Valore Con Cui Io Scalo Il Singolo Oggetto Viene Moltiplicato Per il Suo Valore Di Dimensioni Iniziali Per ottenere Le dimensioni Finali E Queste Avevano Già Subito Una Scala Perché Facevano Parte Di Questa Collina Qui Provocando Ovviamente Questo Aumento Di Dimensioni Sproporzionato Ecco Cosa Succede Se Ho fatto Una Scala Con Un Valore Randomico Lo Potete Ben Intuire S Su Tutti Gli Assi Mi Mi Da Questo Effetto Di Incasinamento Del Mio Oggetto E Ovvio La Stessa Cosa Su Un Asse Come L'asse Delle X Delle Y E Mi Crea Un Effetto Del Genere Se Lo Scalo Sulle Assi Delle Z Che A Pensarci E Anche Abbastanza Simile Dall' Effetto Che Ottenevamo Sempre Con Interpolazione Randomica Facendo Un Grab Z No Vedete Ottengo Sempre Questa Specie Di Collina Però Con Però Che Non Ha Un Profilo Regolare Invece Randomico Appunto D'accordo Cosa Succede Combinando Le Griglia Semplicemente Ottengo Lo Stesso Risultato Che Ottenevo Ottengo Un Risultato Simile A Quello Che Ottenevo Scalando Lung Una Sola Asse Solo Che Il Risultato Non E Più Un Buidale Ma E A Quadrato Invece Combinando Un'asse Parallela Alla Griglia Con L'asse Delle Z Come In Questo Caso Ottengo Sempre L'effetto A Gombo Al quale Si Somma Però Anche L'effetto A L'effetto A colline In questo caso Non visibile Perché abbiamo Ancora L'interpolazione Randomica Ridentiamo Appunto Ho creato Sia un effetto A collina Però più Attenuato Che un effetto Che l'effetto Che mi dà Appunto Il profilo Romboidale Si noti Però Che in ogni caso Non posso Evitare Queste Fastidiosi Con Penetrazione Vi ho fatto Qualche esempio Pratico Sui risultati Che posso Ottenere Utilizzando Appunto Lo scaling Con il proportional Editing Ricordate Che nel 70% Dei casi Il proportional Editing Lo userete Per la Per il grab Perché il proportional Editing Noi adesso L'abbiamo usato Per trasferire Oggetti Interi Ma molto spesso Come vedremo Nella lezione Successiva Si userà Per la trasformazione Di vertici All'interno Di una mesh Dove appunto È molto più potente Quando parliamo Di Scala Di Traslazioni Perché a quel punto Mi permette effettivamente Di modellare Profili ondulati All'interno Di una mesh Ma ruotare I vertici All'interno Di una mesh Scalare Non ha senso Non ha significato Quindi appunto In edit mode Come vediamo Nella lezione Successiva Usare Si potremmo Per esempio Applicarlo Agli spigoli O alle facce Però ricordatevi Che molto spesso Il precautional editing Viene utilizzato Nel 70% Di casi Per la modellazione Di colline In edit mode Quindi questa cosa Che non è sempre Fatta con i singoli Oggetti Come vedremo Nella lezione Successiva Può essere applicata Quindi questo effetto Di creazione Delle colline Può essere applicata Ad unità Che in realtà Sono vertici All'interno Di una mesh In edit mode Che permette E a quel punto In effetti È il modo più efficiente Per la modellazione Di una collina Fatta eccezione Per la funzione Displacement Che scopriremo Quando andremo A parlare Dei modificatori Che sono un concetto Molto complesso E che andremo Ad approfondire In futuro Molto bene E adesso Gioiamo Perché adesso Andremo a fare La nostra Primissima Esercitazione Pratica Sì Bene 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 Andiamo a vedere Cosa vogliamo fare Per iniziare Cerchiamo Di Ve lo spiego Con una notazione Di prendere un piano Inserire Un cono Sopra Il piano E inserire Un cubo Sopra Il cono E infine Un cubo Più piccolo Che aderisca Perfettamente Alla superficie Di quello iniziale Non vi ricordate Come funziona Il sistema Delle note Rivedete La lezione 3 Allora Intanto Questo cubo Iniziale Non ci serve Anzi Premiamo A per selezionare Tutto It's Per cancellare Adesso Che dobbiamo Aggiungere Un piano Shift A Mesh Plane E' un po' piccolo Rindiamolo più grande Di 5 volte S 5 Enter E abbiamo già fatto La prima La primissima parte Del lavoro Adesso Shift A Per aggiungere Un nuovo oggetto E' il primo oggetto Che ci serve Quale Quale può essere Eccolo qua E' il nostro Bel cono Ok La risoluzione Un po' bassa Cambiamo la 64 Perché come sicuramente Vi ricorderete Blender considera I solidi di rotazione Come Blender considera I solidi di rotazione Come formati da vertici In particolare Questo è una piramide Con una base A 64 Vertici In tal modo Che assomiglia A un cono Adesso vediamo Che si possono Distinguere Le singole facce Quindi appliciamo Lo shade smooth Però in basso Non si distingue più La base Quindi l'effetto esterico E' un po' bruttino E applichiamo Auto smooth Per risolverlo Adesso vogliamo Fare in modo Che la base Del cono Coincida Con La La base Del piano Ovviamente E' semplicissimo Abilitiamo Gli snap Che si può fare Anche con la combinazione Di tasti Shift Tab E Grab Z E Alziamo Il nostro Cono E il computer Quando E si troverà In prossimità Di una linea Della griglia Come per esempio Quella Che concide Con l'asse Delle Y Tenderà A farlo Bloccare Noi possiamo Farlo muovere Anche quando il computer Tende a farlo bloccare Però quasi Fa resistenza Il cono Diventa un attimo Un po' più duro Da muovere Per un secondo Quando il computer Cerca di bloccarlo Se noi Invece Continuiamo A trascinare Per muoverlo E si muoverà Tranquillamente Però il cono Tenderà Praticamente A fermarsi In corrispondenza Di tutte le assi Della Della griglia Compresa quella Coincidente Con il piano Y Adesso vediamo Che la base Del cono È complanare Al piano Il che è fantastico Certo Però si crea Sotto questo piccolo Effetto Che è un piccolo Problema Che avviene Ogni volta Che avviene Una complanarità E personalmente Lo trovo un po' Sgradevole Quindi Grab Z Ed alziamolo Di molto poco Per esempio Di punto 00 1 metri Quindi Di un millimetro Abbastanza Da far scomparire Quel Quei fastidiosi Effetto sotto Ma veramente Troppo poco Perché si possa Notare qualcosa Adesso Io cosa Voglio fare Voglio fare In modo Che voglio Inserire un cubo Nella punta del cono Sulla punta del cono No Ma qualcuno di voi Sicuramente Si ricorderà Che Blender Automaticamente Inserisce Gli oggetti Che Blender Automaticamente Inserisce gli oggetti Dove vi è il cursore 3D Quindi Già se io spostassi Il cursore 3D Sulla punta del cono Farei un grande passo avanti Lo devo solo alzare Finch'esso non tocchi Appunto La punta del cono Sappiamo che il cono È alto 2 metri Quindi nel pannello View Cambiamo la posizione Del cursore 3D E mettiamolo a 2 metri Adesso si trova Elevato di 2 metri Come il vertice del cono In quanto il cono stesso È alto 2 metri A questo punto Che bello Se apriamo Shift A Per aggiungere un oggetto E un cubo Tadà Esso mi verrà Aggiunto Esattamente sopra il cono Anche se Non è la base del cubo A concidere Con la punta del cono E allora io cosa posso fare? Control punto Per poter modificare l'origine Perché? Perché Blender Quale parte del cubo Ha fatto in modo Che coincidesse Con la punta del cono? E il suo pivot Che di default È il suo centro Se io faccio in modo Che il pivot Non si trovi Al centro del cubo Ma sulla base Se io vado a dire a Blender Di riportare il cubo Di nuovo Sulla punta del cono Automaticamente Blender Adesso mi farà Sempre coincidere il pivot Che però Se io riesco a farlo coincidere Con la base Del cubo Se io riesco a farlo coincidere Con la base del cubo Porterà A una Porterà Appunto La base del cubo Trovarsi Sul vertice del cono In altre parole Io devo fare in modo In altre parole Blender mi ha collocato Il cubo in questo modo Lo notiamo meglio Se attiviamo gli xray Con alt z Che ci permettono Di vedere attraverso Gli oggetti Se non ve lo ricordate Ripassate la lezione 1 E beh Io vedo Questa situazione Allora Ripetiamo un'altra volta Perché è importante Perché Blender Mi ha collocato Il cubo In questa posizione Perché io gli avevo già detto Che mi doveva collocare il cubo Sul cursore 3D Quello lo sa già lui di default E però gli avevo detto Che il cursore 3D Coincideva con il vertice del cono Perciò lui ha detto Il cubo deve coincidere Con il vertice del cono Ma quale punto esatto Del cubo Lui Ha fatto coincidere Con il vertice del cono L'origine È sempre quella Perché noi sappiamo Che se io dico al computer Che un oggetto A Si deve trovare In un punto P Sarà il pivot Di A A trovarsi in P E non magari Un suo vertice A meno che il pivot Non coincida con un vertice Allora io devo fare Essenzialmente Allora Allora Se invece il pivot Si fosse trovato Sulla base inferiore Del mio cubo Sarebbe stata La base inferiore A coincidere Con il vertice del cono Perché? Perché il pivot Coincideva con il vertice del cono E se invece La base inferiore del cubo Coincideva A sua volta Con il pivot A quel punto La base inferiore del cubo Coincideva con il vertice del cono Spero di essermi spiegato Praticamente Sempre Con queste impostazioni Il pivot del cubo Coincide con il vertice del cono Se io faccio in modo Che il pivot Coincide anche Con la parte inferiore del cubo A quel punto Automaticamente Coincidevano anche La parte inferiore E il vertice del cono Spero di essermi spiegato Allora Devo collocare il pivot Nella base inferiore Come posso fare? Attivando il comando Control punto Adesso Io posso muovere Tranquillamente il mio pivot Di quanto? So che il mio cubo Ha lo spigolo Di due metri Ok? Due metri Adesso Scusate Mi ha fatto il calcolo Sulla diagonale Ok Allo spigolo Di due metri Vedete? Con lo snap Attivato Inoltre Automaticamente L'opzione Di misurazione Tenderà A coincidere Con i vertici A proposto Quindi lo snap Automatico Rende più precisa Anche l'opzione Di misurazione Che adesso Proprio precisa Al millimetro Perché automaticamente Tende A coincidere Con i vertici Piccolo appunto Va bene Comunque sia A noi interessa questo Allora so che il mio cubo Ha uno spigolo Di due metri E so che il pivot Si trova al centro di esso Quindi in questa rappresentazione Bidimensionale Dove il Cubo È un quadrato Il pivot Si trova A metà Dell'altezza del cubo Quindi a un metro Dalla sua base inferiore Riabilitiamo Il control punto Ok Ricordate sempre Di selezionare L'oggetto Di cui volete Modificare il pivot E perciò Se io adesso Muovo il mio pivot Dove lo dovrò collocare A un metro più in basso Perché sappiamo Che adesso Si stava un metro più in alto Cioè la metà Dell'altezza del cubo Rispetto alla base inferiore Quindi devo premere Grab Z Meno Uno Quindi un metro più in basso Disabilitiamo il control punto Adesso Il pivot Del cubo Coincide con la sua base inferiore Se io dico Al computer Di ricollocarmi Di nuovo il cubo Quindi Shift S Selection To cursor A cursor Tridimensionale Praticamente Gli dico che Il cubo Deve coincidere Con il vertice Del cono Ok Ma quale punto del cubo Lui mi farà coincidere Con il vertice del cono Il pivot Che è nella base inferiore Quindi così facendo Se io faccio Selection To cursor Otterrò effettivamente Il risultato che io voglio Az per disattivare Gli it's gay Adesso però Se io Se a me da fastidio Avere il pivot In questo punto strano Set origin Origin to geometry È tornato il punto di partenza Adesso Io voglio Io voglio Collocare Un cubo Al di sopra Di questo Di quello già presente Ok Perciò Usiamo la funzione Add cube Che avevo visto Nella lezione precedente Molto utile E disegniamo Semplicemente un cubo Ecco Magari adesso Mi sono scordato Di disattivare Gli snap Per la stessa cosa Però C'è qualcosa Di un po' strano Perché Il cubo Non è proprio Proprio Un cubo Ecco È un po' Impreciso Questo perché L'abbiamo disegnato Semplicemente manualmente Vedete L'altezza È di 1.13 metri Quindi dovrebbe essere Di 2 No La larghezza È di meno di un metro Perché di default I cubi Vengono inseriti Con Due Di Tutte le dimensioni E anche La profondità È di meno di un metro Ora Immaginiamo Dato che questo cubo Deve essere un pochino Più piccolo Di quello inferiore Di voler che questo cubo Abbia tutte le dimensioni Di un metro Per le dimensioni di base È semplice Andiamo ad item E cambiamo i primi due valori A 1 Però Con l'altezza È un po' diverso Perché se io la metto ad 1 Metà Se io la metto ad 1 Se tolgo qualcosa Metà di quello che tolgo Lo tolgo da sopra E metà di quello che tolgo Lo tolgo da sotto Invece Se era maggiore Se fosse stata maggiore Di 1 L'altezza Se fosse stata invece minore Di 1 L'altezza Metà di quello che aggiungevo Lo aggiungevo sopra E metà lo aggiungevo sotto E non era questo che volevo Perché così facendo La base non è più Coincidente Alla base del cobo Inferiore In altre parole Vi sto solo dicendo Che L'ho scalato Lungo il pivot E non era esattamente Quanto io volevo Io lo volevo Volevo proprio Abbassarlo Però Io appunto Scalandolo lungo il pivot Se lo rendo più basso Che è quello che voglio fare La base superiore Sarà un pochino più in basso Ma quella inferiore Sarà più in alto Non voglio questo Allora Che soluzione Ci può essere Per esempio Ho due soluzioni possibili Ve ne spiego Prima una E poi l'altra Quella che Subito Vi verrebbe in mente Che forse Qualcuno di voi Rimarrà invariata Perciò La scala è di 1.13 metri Dovrò Abbassare il pivot Quindi options origin Grab z Di meno Di meno 1.13 metri Fratto 2 Qua non mi ha preso bene Il fratto Il fratto 2 Non me l'ha preso Perché quando state scrivendo Una formula Quindi grab z Per esempio Scrivete il numero Dovete inserire il numero preciso Non potete inserire Formule matematiche Quelle le potete mettere Solo nei campi di testo Perciò il fratto Lo aggiungo Dal pannello move Ecco fatto A questo punto Se io scalo Il cubo Sull'asse z Esso mi si scalerà Sempre rispetto al pivot Però adesso Il pivot Dove si trova? Il pivot Adesso si trova Sulla Però adesso il pivot Si trova Sulla base inferiore Quindi il cubo Verrà scalato Rispetto Alla base inferiore E perciò Questa rimarrà Invariata Vedete Sto ancora Scusate Sto ancora Ho ancora Affect only origins Attivato Perciò La scala Mi avverrà Rispetto alla base inferiore E questa rimarrà Invariata No? In questo modo Quindi Se io voglio Scalarlo Sull'asse z S z Ora Ok S z Finché Questo valore Non è relativo A 1 E poi adesso Contro la E applico tutte le trasformazioni Sto tranquillo Però mi ha spostato Purtroppo L'origine dell'oggetto Al centro della scena Ma rimedio subito Il suo origin 100 geometri In altre parole Quando In altre parole Per dirlo In termini Veramente Molto semplici In casi Come questo Quindi Quando scalate Il cubo Però vedete Che La scala Non avviene Come vorreste Perché avviene Rispetto al centro Dell'oggetto Comunque al pivot Dell'oggetto Ricordatevi Che molto spesso Si risolve Spostando il pivot Proprio come in questo caso Ripetiamo L'operazione In modo Che sia ancora Più chiaro Quindi l'ultima operazione La ripeto Per farvela vedere meglio Anzi Facciamo un altro esempio Invece di ripetere Tutta l'operazione Se volessi Aggiungere un cubo Invece sul lato Di quello più grande Ecco fatto Ho aggiunto il cubo Adesso Lato Dimensioni Y Di 1 Dimensioni Z Non vanno bene Calcolate Che Dimensioni Sull'ast Z Invece non sono corrette E voi direte No 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 Un momento Ma quella dove adesso Si sta scalando È l'asse Y No No Perché Calcolate Che Anche il pannello Item Utilizza come riferimento Le assi locali Io ho Innalzato il cubo Da questa faccia Perciò Perciò per il computer L'asse locale Z Di questo cubo Praticamente È parallela All'asse globale Delle Y Perché Quando voi Aggiungete un oggetto Con la funzione Add Cube Beh Quando voi Aggiungete un oggetto La funzione Add Cube La direzione Di innalzamento Verrà immediatamente Salvata Come Verrà immediatamente Salvata Come Asse locale Delle Z Vedete Perciò Quando voi Usate questa funzione Indipendentemente Da quale sia L'asse globale La direzione Lungo la quale Voi innalzate L'oggetto Verrà salvata Come asse locale Delle Z Molto bene Allora Come posso Scalare questo cubo Semplicemente Prendo La sua origine E la sposto Lungo l'asse Delle Z Perché Siamo comunque A local Quindi stiamo comunque Effettuando Stiamo comunque Usando Le impostazioni locali Della metà Della sua altezza Quindi Grab Z Meno Punto 9 8 9 E poi Dal pannello Che mi appare in basso Lo divido per 2 E in questo modo Contro il punto Ho immediatamente Inserito Il centro Della scala Su questa faccia Sulla faccia Che coincide A quella del cubo Più grande Detto in parole povere Se durante una scala Volete che una faccia Resti lì Dov'è Il modo più semplice E collocarvi il pivot Lo potete fare Semplicemente In questo modo Anche se Magari Se sono mesh Più complesse E Se sono mesh Più complesse Potete risolvere Cioè Potreste anche Collocare il pivot In modo preciso Utilizzando Un metodo Di collocazione Dell'origine Che vedremo Nella lezione Successiva Comunque sia Adesso posso Scalare Il mio cubo Lungo L'asse Lungo Il Sì Posso scalare Lungo La sua faccia Laterale Allora Posso mettere Anche Allora posso Scalarlo Tranquillamente Sull'asse Le z Finché Alle dimensioni Anche z Non concide Con un metro E Ecco qua Abbiamo ottenuto Il nostro lavoro Quindi cosa abbiamo imparato E cosa abbiamo consolidato Con questa Ulteriore Prova Calcolate che Se io adesso Volessi Muovere Questo cubo Lungo la faccia E Promessi Grab Ma se volessi Che comunque sia Il cubo Resta appiccicato A questa faccia Del cubo più grande Se sono il local Devo dire Di muoverlo Su tutte le assi Tranne L'asse Lungo la quale Non voglio Che effettivamente Il cubo Venga traslato Che Nel sistema Siale locale È l'asse delle z Quindi grab Shift z Se invece Uso il sistema Globale L'asse lungo Il quale Io non voglio Traslarlo Il computer Lo riconosce Come L'asse delle y E quindi Devo prendere Shift y Ripeto L'ultima cosa Che ho detto Che è un po' Complessa Se io questa cosa Che ho inserito Qua sopra L'ho settata Local Ok E io voglio Muovere Liberatamente Questo cubo Lungo La faccia Di quello Più grande Io Devo Devo Grab Shift z Perché Perché adesso Il computer Sta usando Il sistema Di locazione Il sistema Di riferimento Locale Ove L'asse Perpendicolare Alla faccia Del cubo Più grande È quella Delle se invece questo ce l'ho settato a globale per il computer l'asse perpendicolare alla faccia del cubo più grande è l'asse delle y quindi è grab shift y per muovere liberamente questo cubo lungo la faccia del cubo più grande ma queste sono queste che abbiamo già visto in ogni caso quando dovete fare una traslazione usate comunque le shortcut e temete di confondervi con globale, locale, normale se temete di confondervi andate direttamente al pannello move e in questo modo potete vedere chiaramente le assi con i colori rispettivi come vi si evidenziano anche attivando la funzione origins però dal pannello move se siete settati a global vedete le assi globale e se siete settati a local vedete le assi locali capito? bene invece se attivate il comando origins vi verranno evidenziate sempre le assi locali molto molto bene tuttavia avevo detto che comunque cosa abbiamo appreso con questa sentiamo l'origine e la geometria allora cosa abbiamo appreso con questo nostro questa nostra seconda azione di scala del cubo lungo un'altra faccia cosa abbiamo consolidato? abbiamo capito che quando andiamo a fare una scala di un oggetto ma vogliamo fare in modo che esso si mantenga in ogni caso che mantenga almeno una sua determinata faccia invariata quindi nella stessa posizione semplicemente posizionate il pivot su quella faccia detto in prova alle povere e questo è un bel sistema tuttavia avevo accennato che vi era anche un altro modo per fare una scala per effettuare una scala essendo sicuri che il pivot rimanga lungo una scusate ve l'ho accennato che esiste anche un altro modo per effettuare una scala facendo in modo che la posizione di una determinata faccia rimanga invariata e qual è questo altro sistema interessante? è uno che è un sistema che vi avevo consigliato di vedervi a casa ma che adesso vi vado a spiegare in modo più specifico che è quello dello scale cage intanto aggiungiamo un altro cubo lungo questa faccia ok? allora settiamo bene le prime le dimensioni sull'asse delle x e delle x magari adesso facciamolo tipo a 1.3 metri per cambiare e ricordatevi sempre che qui usa è importante le informazioni locali ok? quindi quindi per il computer l'asse delle z è la direzione di innalzamento che avete utilizzato quando avete creato il vostro cubo ok? avete capito? bene ma adesso molto bene 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 controlliamo che sia tutto a posto comunque si è tutto ok volevo assicurarmi che le facce comunque stavassero nelle posizioni giuste quindi ricordatevi che quando create così i cubi per il computer l'asse delle z è la direzione di innalzamento che avete avuto quando avete creato il vostro solido geometrico e questo è molto importante comunque io voglio scalare con attenzione questo cubo un altro modo interessante è attivare lo scale cage vediamo come funziona semplicemente se clic iniziamo vedendo che ogni faccia ha un punto cliccando sul punto all'interno di una faccia e trascinando il computer effettuerà una scala tale che no scusate quindi cliccando sul punto interno a una faccia e trascinando il computer effettuerà una scala tale che si ottenga un risultato uguale a quello che si atterrirebbe muovendo quella singola faccia che è qualcosa che impareremo a fare la prossima volta in edit mode lungo appunto l'asse globale perpendicolare lungo la quale poi state trascinando che cosa vuol dire ve lo spiego subito praticamente potete considerare detto in parole povere consideratela così vedete il vostro oggetto cliccate sul e se considerate il vostro oggetto se volete vedete i punti all'interno delle facce perché ogni faccia ha un punto interno bene cliccando e trascinando otterrete un risultato esattamente uguale a quel si ottenete un risultato che corrisponde perfettamente a quello che otterreste trascinando effettivamente quella quella faccia che effettivamente quindi voi quando cliccate sul punto interno a una faccia immaginate e trascinate il punto interno a una faccia importante immaginate di star trascinando quella faccia su e giù il computer non la vede in questo modo il blender la interpreta come una scala ma non c'è assolutamente nessun problema su come la interpreta blender semplicemente quindi i punti interni della griglia interni alle facce beh quelli equivalgono al trascinare avanti e indietro la faccia all'interno della quale sono posti vedete posso trascinare tranquillamente le mie facce questa cosa quindi trascinare le facce impareremo a farla anche in edit mode solo che come vedremo meglio nella lezione successiva l'edit mode rende non agisce sul pivot quindi se lo fate con lo scale cage cage letteralmente vuol dire proprio sbarri se lo fate con lo scale cage il computer adatterà automaticamente il pivot per fare in modo che resti al centro della geometria della vostra mesh se invece lo fate dall'edit mode cosa che impareremo a fare nella lezione successiva a quel punto il pivot resterà invariato e quindi a quel punto trascinando una faccia esso non si troverà più al centro della vostra geometria comunque sia quindi cliccando sul punto interno di una faccia beh potete semplicemente trascinare essa e il computer automaticamente risetterà il pivot in modo che rimanga al centro della vostra geometria allora sentiamo nel modo che le dimensioni siano effettivamente di 1.2 su tutti i lati e otteniamo un cubo bene e tac tac e invece cosa significano i punti al centro delle al centro degli spigoli e sui vertici beh esattamente come avete già detto significa trascinare vertici e spigoli ah un momento cosa cosa vuol dire in pratica voi però mantenendo in realtà le proporzioni della mesh in altre parole in altre parole se cliccate su un vertice letteralmente e lo trascinate il computer scalerà la mesh automaticamente su tutti gli assi però utilizzando come pivot il vertice opposto invece se cliccate invece se cliccate su uno spigolo automaticamente il computer lo scalerà sui automaticamente il computer lo scalerà su tutti gli assi a eccezione di quello parallelo su quello spigolo utilizzando come centro della scala lo spigolo opposto quindi ripeto al centro delle facce equivale a trascinare le facce le facce siamo precisi potete vedere bene i risultati che ottenete dal prezzo sicuro che sia un cubo dal pannello item bene e ok invece quindi le facce i punti delle facce equivale a trascinare le facce i punti dei vertici lo scala su tutti gli assi utilizzando come centro il vertice opposto mentre lo spigolo me lo scala su tutti gli assi a eccezione di quello parallelo dello spigolo allo spigolo utilizzando come centro lo spigolo opposto importantissimo ricordatevi che se utilizzate lo spigolo beh ricordatevi che scalare sullo spigolo cioè trascinare lungo lo spigolo equivale a localizzare il pivot sullo spigolo opposto e a fare s e poi shift più il nome dell'asse parallelo allo spigolo per la qualcosa lo spigolo attenzione mi scalerà il cubo su due assi e non mi si preserverà e non mi preserverà le le proporzioni ecco quindi lo spigolo quindi trascinare sia lungo le facce che lungo lo spigolo non mi permette di mantenere le proporzioni invece trascinando lungo il vertice le proporzioni rimangono perché l'oggetto viene scalato lungo tutti gli assi anche se lungo il vertice opposto invece appunto sullo spigolo me lo trascina su due assi quindi in altre parole usando le facce quindi in altre parole usando i punti che si trovano nelle facce andrò ad effettuare una trasformazione su un asse utilizzando i punti sugli spigoli andrò ad effettuare una trasformazione su due assi che si trasformeranno in un ugual modo in un ugual proporzione invece utilizzando la invece utilizzando i punti presenti sullo spigolo effettuerò una scala che avviene su tutti gli assi e perciò me ne preserva le proporzioni adesso riportiamo questa figura all'essere un cubo quindi semplicemente trascinando lungo le facce finché i valori non corrispondono ecco perché non è più un cubo quindi le proporzioni le devo cambiare e vedete e posso lavorare in questo modo semplice molto bene ora impostiamo la scala all'opzione di default torniamo all'opzione select e abbiamo terminato la nostra esercitazione pratica per la qualcosa abbiamo creato questa piccola scena che secondo me è molto utile per farvi capire bene i concetti di pivot e anche per introdurvi in modo attento lo scale cage cioè quest'opzione dove ripeto un'ultimissima volta se trascinate lungo i punti delle facce equivale a trascinare le facce stesse anche se il pivot viene sempre in tempo reale risettato in modo da essere al centro della geometria invece trascinare lungo uno spigolo mi fa uno scaling su tutti gli assi a eccezione di quello parallelo sullo spigolo che ha come centro di scala lo spigolo opposto e infine trascinare lungo un vertice mi scala la mia mesh su tutti gli assi quindi mi preserva le proporzioni ma ha come centro di scala il vertice opposto per finire proprio il nostro lavoro controllare e applichiamo le scale a tutti gli oggetti ok contro la scale contro la scale e anche al piano che l'abbiamo scato di 5 volte se non servirebbe contro la scale e così abbiamo terminato la nostra prima esercitazione pratica grazie molte grazie infinite per aver seguito anche questa lezione di di blender tutorial e arrivederci e ci vediamo alla prossima lezione a presto dove andremo ad apprendere e a studiare la edit mode